La guerra fredda La testa bassa il Cesena prova a piantare con calma altre banderiglias, Piracini mette in risalto le dote acrobatiche di Cusin, poi Agostini e Cuttone decidono di non arrotondare il giappingue bottino. Maifredi cerca di rimescolare le carte inserendo Monza al posto di Stringar, ma cambia poco o nulla. Le uniche conclusioni del Bologna sono queste, gli fecci alquanto. Poi ci prova Lupi, servito da Lorenzo. Il Cesena si muove con lo stesso timore che potrebbe avere un gatto davanti ad un topolino con le idee confuse. Fecci respinge sulla linea. Lara mi dispiace. Lo vedo, stiamo qui insieme e tu fissi la tv. Io lo so che per te è importante, però ogni tanto mi piacerebbe anche fare qualcosa di normale. Passando le cose serie, che cosa ha fatto il Cesena? No, 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 dai, dai, dai. Ma sai che sto scherzando? Allora, baby, come sta Silvia, eh? Non riesci ancora a passare dalle porte? Sì, ti amo anch'io. Sì, non vedo l'ora di tornare a casa. Aspetta. No, ma seriamente, Cesena? Sì. Sì, va bene. Ascolta, adesso devo lasciarti che gli altri mi stanno aspettando fuori. Sì, sì, promesso, ti chiamo domani. Va bene. Un bacio. Ciao. 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 In questione di centimetri, di millimetri, un lavoro di Cesello, un lavoro di precisione, sei diventato giocato per passare dalle porte. Notizia terribile. Eh, che cazzo è successo? Cesena ha pareggiato con l'azzo. Sì. Uno a uno, in casa. Questo punto della stagione è... Tu vuoi una scicaretta? Tu? Il paquette? Non No Sì! Spartaccia e Sena Spartaccia e Sena Spartaccia e Sena La Romania paura non ci fa La Romania paura non ci fa La Romania paura non ci fa I reparti regolari dell'esercito rumeno contari al regime di Ceausescu Sembrano presidiare tutti i punti strategici del paese Entro domani alle 17 i cittadini dovranno consegnare all'esercito le armi in loro possesso Mentre alcuni agenti della polizia segreta del dittatore De Postola, terribile securità Si sono arresi e consegnati all'esercito Sembra chiarirsi il mistero sulla sorte di Ceausescu Sarebbe stato arrestato fin da venerdì scorso Per il nuovo governo intanto ci sono i primi ufficiali riconoscimenti internazionali Come unico rappresentante del popolo rumeno In Svizzera saranno congelati i beni di Ceausescu Beni che sembra superino i 500 miliardi di lire La parola fine al regime di Ceausescu Senti nell'aria Vedo 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 Vedo